sì in questo anno di raft allora ho perso una registrazione che era successo un casino sono morto allora sentite la mia voce diversa che sono resta a sistemare un pochettino ditemi se preferite così o quello di prima allora dicendo prima che era successo un casino che ero morto e allora mi so che sono costretto a cambiare a cambiare mondo a rincominciare da capo visto che è successo un casino allora il mondo lo chiamo fede 0 30 allora poi metto password che non vedrete mai allora abbiamo incominciato ok quelle sì che sono belle dov'è lo squalo ok allora ben capito che lo squalo è molto cattivo e dicevo che non vedevo niente ai lati diceva che ero nel mondo più brutta del mondo e non vedo ancora molto davanti allora aspettiamo che arrivano queste cose le prime cose che devo fare sono le devo allargare la mia la mia zattira che prima ho capito che se avevo la zattira minuscola non c'era spazio per nulla non potevo non potevo fare niente poi c'era sempre lo squalo che probabilmente non mi morderà che non mi faceva fare nulla io mettevo un tipo allargare di uno e mi andavo a mordere immediatamente cioè ero arrivato al punto che avevo due blocchi non potevo più fare nulla allora cioè ero finito ma allora sono scrostretto a rincominciare da capo e quindi ho capito no vieni da me oh non andarti allora le prime cose senserie da fare sono allargare l'isola ok venite e mettere devo fare un sacco di cose tipo questo non posso fare nulla ancora allora venite mi servono le foglie per fare le corde e devo prendere un sacco un sacco di materiali quindi adesso mi farò un taglio dove finché non avrò un sacco di materiali abbastanza materiali da farmi un po di cose ok mi sono fatto abbastanza cose no scherzavo mi servono un rottame e le corde mi servono un po di foglie però i materiali scarseggiano scherzavo no ci sono un sacco di robe però cioè se il mio rampino finisce per me alla fine quindi io per ora direi prendo gli ultimi materiali mi creo un altro rampino così per essere sicure però il baule dammi un po di cose belle sono nemmeno arrivato perché non ho caricato abbastanza bello 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 mi serve la plastica la plastica da me prima quando nella mia scorsa cosa ho fatto così poche non trovavo più la plastica era rarissima e invece di legna ne ho un sacco grazie che bel regalo spero che il pasquale non no lo squadrono mi dia fastidio cioè che sennò per me alla fine che già aver tre cose per me non è che sono messo molto bene ok se riesco a prendere anche la foglia si ok ora posso fare un po di cose griglia l'acqua prendo quel baule a tutti i costi vai 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 si tiro perfetto però la legna la legna non c'è c'è sempre un sacco però ci sono un sacco di robe però allora intanto la legna la prendo anche se c'è un sacco c'è sono già 21 a 20 a no 25 di legna sono c'è la legna sempre troppo c'è guardate quante ok le patate si le patate posso la cosa che devo pensare sempre di più però è l'acqua e il cibo quindi venite da me cose vieni no non può mordermi che ho soltanto tre cose non è giusto se lui deve continuare a mordere chi non ha ancora nulla ma dai non è giusto però così quindi allora venite da me plastica come servite quindi allora devo ricostruire quello che lui rompe ovviamente ok io allargo un bel po ma allargo veramente di un bel po così almeno se deve spaccare ho un sacco di roba in più ho usato in pratica tutti i miei materiali però dai qua se ne sono un bel po di materiali anche se non posso andare a prendere niente lì nella cesta no nel nella nell'isola ok si è rotto il coso per fortuna ne posso fare un altro subito allora mi servono un sacco un sacco di materiali però quindi la ce vedo una zattera vorrei andarci però no spiego troppa stamina invece non voglio perdere vita dallo squalo no ora niente isole non voglio esplorare questo episodio voglio soltanto farmi tutto il necessario quindi cibo depuratore mi servono due di plastica qui mi servono le corde che le corde penso di poterle fare allora vediamo se possono fare le corde eccole sì e abbiamo fatto la nostra griglia quindi la mettiamo qui così almeno non ce la può distruggere le cose ci sono una marea no 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 perché deve stare proprio sotto di me quando cado cioè lui lui sa che quando quando lo sa tutto anche quando cadrò e quindi si prepara lì allora vabbè devo prendere un sacco di robe quindi ora il depuratore mi serve una foglia invece qui un attimo mi serve quella foglia che mi faccia anche il depuratore no non ci sono arrivato non ci credo allora vieni da me tu e ok ora quindi dov'è il depuratore no non è una foglia cavolo foglie dove siete c'è proprio quando mi serve una foglia non c'è vabbè è lì ok adesso creiamo anche il depuratore quindi le cose per vivere ce l'abbiamo ora ci serve questo ma non ha niente per farlo cosa serve assi mi servono le assi e anche la plastica va bene le cose in pratica più necessarie ok baule un sacco di roba un sacco di roba sì sì allora questo cosa serve ancora le corde ne ho soltanto una su quattro capi dimmi che ce la faccia prenderlo vai sì vieni da me anche la plastica gg quanta roba ok adesso dovrei avere abbastanza cose sì e quindi possiamo anche mettere le coltivazioni che mettiamo qua che almeno sono protette ora in pratica io posso mettere queste qua dove sono anche le patate ho e dovrei no dai non rompere scuolo quindi ho la tazzina con la tazzina la riempio la metto hai bisogno di a devo anche cuocerla va bene ora però queste cose l'abbiamo fatte e nel mentre riempio ancora e allora ora che cuocio posso bere arrivata la notte però cavolo il baule non l'ho preso no quel baule lo devo avere ok gg e ora qui quanto ci mette però allora intanto prendo un sacco un sacco di baule di cose e così siamo già pronti di nuovo a fare altri allora prendo questo poi l'ho perso qui e dovrebbero crescere in fretta no sono caduto ma non prendere ok ce l'abbiamo fatta e ora allora devono bere dobbiamo bere e anche mangiare qui non come non ho riempito io l'avevo riempito ma dai ho spettato un bicchiere d'acqua se serio quanto è bella la luna ma è anche enorme c'è tipo successo un casino di perché adesso adesso corro lento c'è vado lentissimo ora dai dov'è il bicchiere perché ti metti una vita a cuocerti ok bevi finalmente ora metto anche di nuovo questo qui la parte le patate le metto nel mentre qua e ok siamo cioè ce l'abbiamo fatta abbiamo praticamente tutte le cose utili ora però bisogna pensare alle cose per vivere serve una corda mi serve una corda per avere anche la canna da pesca così anche essere essere messi a posto con il cibo questa questa è la partita perfetta di baule con un sacco di roba va bene ed ecco noi siamo a posto e innaffiato così dovrebbero crescere più in fretta gg ora per concludere un po' no aspetta qua intanto mettiamo un po di cose ora la cosa che ci dobbiamo fare è la questa ok canna da pesca vediamo come si dovrebbe pescare lancia quanto non ho lanciato ora in pratica ci dovrebbero essere i pesci che mi dovrebbe dire quando tirare dai dai su dai su su e vabbè ti metto una vita tira e ho preso una ringa cruda ok intanto prendiamo la patata e la mangiamo io dovrei mettere questo e cuoci il pesce si gg tanto noi finiamo così che abbiamo messo ancora un pochettino più di cose e basta abbiamo fatto una marea di cose in questo episodio c'è guardate la nostra zattera quanto è grande cioè siamo messi benissimo noi una sì abbiamo fatto abbastanza il video finì qui ciao ciao